Mo' ti racconto tutta la storia di Rainbow Six Siege in un solo video, dal 2015 fino ad oggi. Ciao bella gente, bentornati sul canale, i vostri commenti li ho letti. So che volevate questo video, che molti di voi erano interessati a scoprire tutta la trama di Rainbow Six Siege, è stata una bella sfacchinata, ho dovuto ordinare un po' le idee, ma ce l'ho fatta. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Ci tengo a dire solo una cosa, qui sotto ci sono i capitoli, divisi per anno e per sezione della storia, potete switchare tra uno e l'altro perché sono abbastanza sicuro che sto video verrà bello lungo. Tra l'altro, durante il video farò sicuramente dei riferimenti ad altri video che sono presenti su questo canale, tutti all'interno di una playlist dedicata alla storia di Siege. Dateci uno sguardo. Cosa è Rainbow Six? Si tratta di un romanzo scritto da Tom Clancy e di cui Ubisoft ha acquistato i diritti parecchio tempo fa perché Siege infatti non è il primo capitolo di questa saga. Si parla di spionaggio e fantapolitica, ma soprattutto delle gesta di questo team chiamato Rainbow e al cui comando c'è questo Six, una persona che però cambia in ciascuno di questi capitoli. Nel 2015, quindi col lancio di Rainbow Six Siege, scopriamo il nuovo Six, che non è altro che Aurelia Arnaud, interpretata da Angela Bassett. Mi sembra una sorta di Amanda Waller della Suicide Squad, per intenderci. Ed è lì la prima volta che sentiamo parlare anche dei White Mask, questa minaccia terroristica che sta traumatizzando il mondo e il motivo per cui Aurelia Arnaud ha deciso di riattivare il progetto Rainbow e di reclutare specialisti da tutto il mondo. La trama dei White Mask non è mai stata approfondita. Diciamo che le uniche missioni dedicate e gli unici momenti in cui le affrontiamo sono in caccia terroristi e all'interno delle simulazioni e nello specifico all'interno di Articolo 5, l'ultima delle simulazioni, che consentiva agli operatori di affrontare questa minaccia all'interno di Bartlett University con tutto questo fumo giallo che poi è lo stesso ripreso anche dalle bombe in modalità disinnesco. Ripeto però, non se ne è più parlato. Anzi, dal 2015 al 2017 non ci sono state aggiunte alla trama di Rainbow Six, Nel 2018 è cambiato tutto. A marzo 2018 infatti abbiamo avuto Operation Chimera e quindi l'introduzione all'interno del gioco di Lion e Finca, ma soprattutto della modalità evento Operation Outbreak. Non senza qualche anticipo, perché in realtà nelle stagioni precedenti attraverso alcuni easter egg in determinate mappe, ad esempio Oregon Aereo Cafè, si vedevano dei codici QR che una volta inquadrati rimandavano al sito Rainbow Six Leaks, al cui interno era possibile raccogliere determinati dati che rimandavano a una capsula spaziale atterrata per errore sulla Terra. Lo schianto infatti di questa capsula spaziale russa avviene nella cittadina Thrutter Consequences del New Mexico e la trama sembrava veramente avvincente. La modalità evento fu giocatissima perché tre operatori dovevano affrontare questa sorta di parassita alieno che prendeva, diciamo, possesso di persone infettandole lì in New Mexico in tre mappe differenti, che erano Resort, Ospedale e Discarica. Questa trama poi ha dato origine a quello che è stato Rainbow Six Extraction, il nuovo titolo della saga di Rainbow Six, che prima doveva chiamarsi Parasite, poi Quarantine. Alla fine, visto che è uscito in periodo Covid, hanno optato per Extraction. Fatto sta che non è stato un successo, non ne parleremo all'interno di questo recap della storia, perché quella trama è ambientata in un futuro distopico, quindi lontana dagli eventi attuali che sono ora in atto su Rainbow Six Siege. Ma prima, visto che tutto sto video mi ha richiesto otto pagine di appunti per non perdermi nulla, uno studio certosino di tutti i dati che abbiamo, un follow su Instagram. Non ti chiedo assai, il solito mute mi trovi così? Ci sono comunque tutti i canali social qui sotto, anche della community di Rainbow Six. Mi trovi anche su Twitch, dove gioco anche ad altri titoli, oltre Siege, ma sui canali della Rainbow Six Siege. Come invece, soprattutto sempre su Twitch, facendo l'abbonamento, puoi ottenere il ciondolo della community italiana di Rainbow. Tutto cambia a febbraio 2019, con il rilascio durante il Six Invitational di quell'anno, di un corto in CGI chiamato Martello e Bisturi. È la prima volta che possiamo dare uno sguardo alle dinamiche interne del Team Rainbow e soprattutto ai nostri operatori animati in quel modo. All'inizio il focus è su una sorta di litigio tra Doc Eby e Thatcher, che non condividono lo stesso modus operandi all'interno delle loro operazioni militari, ma poi si passa all'interno di uno studio, in una casa, dove conosciamo un nuovo personaggio con cui Doc Eby si sta spogando. La cosa interessante è che il tutto avviene in abiti civili, quindi abbiamo effettivamente un clima confidenziale in cui ci viene presentato Harry. Chi è Archiva Pandey? Si tratta del consulente di cultura psicologica e militare di Aurelia Arnaud, quindi la vecchia Six, dal 2015 al 2017. Aurelia però avrebbe accettato nel 2019 la carica di segretario dello Stato sotto il presidente Baldwin, che è il presidente di cui si parla in determinati momenti sul Rainbow Six Siege, e a quel punto Aurelia Arnaud lascia il suo posto ad Archiva Pandey che convince a diventare il nuovo Six. Si percepisce subito il cambio di direzione, abbiamo toni molto meno duri e soprattutto il suo obiettivo è quello di creare sinergia all'interno del team Rainbow. Scopriamo che è sposato, che vive con la moglie e che addirittura ha un figlio, ma che soprattutto non vuole essere chiamato Six, ma vuole essere chiamato Harry. Ecco perché il primo Battle Pass, anzi il prototipo di Battle Pass, che vediamo su Rainbow Six Siege, arriva a settembre 2019 con Operation Amber Rise, parliamo della terza season dell'anno 4, e si chiama Call Me Harry. In questo mini Battle Pass, composto soltanto da sette livelli, scopriamo però qualcosa in più su Harry, cioè che ha messo Mira a capo del reparto di ricerca e sviluppo di Rainbow Six e quindi che da lì sarà lei ad occuparsi dello sviluppo di tutti i gadget degli operatori e che lui invece si occuperà delle analisi psicologiche presenti all'interno delle biografie dei personaggi. Nel Battle Pass sono presenti quattro ciondoli, il suo registratore, l'anello di matrimonio, un biglietto per la Grecia con riferimenti a il programma e un cibi del personaggio. Siamo a dicembre 2019, la season successiva. Operation Shifting Tides introduce Kali e Wamai e soprattutto Nighthaven. Arrivati a questo punto della trama di Rainbow vengono introdotte per la prima volta anche le animazioni. C'è una sorta di cartoni, stile anime, che ci mostrano gli operatori che interagiscono tra loro. Nello specifico troviamo Ash e Harry in Grecia. Ash nutre molti dubbi e non si fa problemi a dirlo ad Harry circa l'ingresso di questi due operatori all'interno del team Rainbow poiché Kali è proprietaria di un gruppo di mercenari al soldo di chiunque, al soldo dei potenti. Ma Harry sembra di tutta altra idea poiché proprio Kali e Wamai avrebbero risposto qualche giorno prima alla richiesta di aiuto di una nave presa di mira da alcuni pirati. In realtà poi scopriremo che l'obiettivo di Harry era proprio quello di tenere sotto controllo Nighthaven tenendoli vicini. Proprio a cavallo tra il 2019 e il 2020 tantissime biografie degli operatori di Rainbow soprattutto di quelli originali sono state cambiate per essere in linea con le altre quindi inserendo il rapporto psicologico di Harry e soprattutto inserendo delle relazioni personali tra i vari operatori. A inizio 2020 Harry crea ufficialmente il programma si tratta di una serie di scenari di simulazione e allenamenti per gli operatori. L'obiettivo è quello di decentralizzare il Team Rainbow la cui sede fino a quel momento era a base di Irford in Inghilterra e avere così sezioni in tutto il mondo. Nasce a quel punto anche Mappa Stadio ambientata in Grecia. Lì si tiene ufficialmente la prima edizione del Torneo dei Campioni un vero e proprio torneo davanti a un pubblico invisibilio per qualsiasi azione in cui c'è una simulazione con colpi ed esplosioni finte. Tutto ciò ci viene raccontato con delle interviste post-match in cui nonostante ci siano comunque sconfitti e vinti si percepisce voglia di far gruppo tra i vari operatori. Ad esempio c'è una bella interazione tra Pulse e Ibana tra cui c'è del tenero alla fine comunque vince il Team con all'interno proprio Doc A.B. e Thatcher. Nell'anno 5 arrivano anche altri operatori appartenenti a Nighthaven ad esempio in Steel Wave l'ultima season con due operatori c'è Ace che è membro di questo gruppo di mercenari. Ma nella terza season Operation Shadow Legacy viene aggiunto a Rainbow Six uno dei personaggi storici di Ubisoft. Sto parlando del protagonista della serie Splinter Cell ovvero Sam Fisher. e viene presentato un po' attempato ma viene comunque doppiato in italiano dal grandissimo Luca Ward e soprattutto decide di avere un ruolo quasi super partes nel Team Rainbow d'accordo con Harry infatti decide di allenare i vari operatori ma vuole essere chiamato Zero ci tiene a questa cosa. Harry infatti gli affida il ROS il Rainbow Operation Staff programma per il reclutamento e per l'istruzione degli operatori ma in realtà è anche una sorta di accordo con Zero che nel frattempo è sotto copertura e sta indagando su qualcosa di non meglio specificato. Ho parlato però al plurale perché mentre Zero ovviamente non fa parte di Nighthaven insieme ad Ace durante l'anno 5 arriva anche a Rooney proprio a fine anno. il braccio e la gamba sinistra di quest'operatrice infatti sono stati ricostruiti proprio grazie alla tecnologia messa a disposizione dal gruppo di mercenari di Kali e scopriamo così anche dell'incidente che aveva coinvolto sia Rooney che Thermite i due si conoscevano da prima del Team Rainbow e che aveva portato quindi quest'operatrice a perdere i suoi arti. Nel mentre però siamo arrivati già a fine anno e quindi ci stiamo preparando alla seconda edizione del Torneo dei Campioni questa volta abbiamo quattro squadre con quattro capitani Vigil Ash Mira e Capitao Harry assegna Kali proprio al Team Ash che comunque non è per nulla d'accordo. Arriviamo quindi al 2021 con The Playbook il corto che sancirà la spaccatura interna del Team Rainbow e ci tengo anche a dire che per ciascuno di questi corti e per buona parte dei video di cui sto parlando ci sono dei video dedicati con un'analisi specifica in tutto ciò che si vede perché spesso e volentieri ci sono easter egg o riferimenti a cose che avverranno in futuro. Nel corto si affrontano in finale proprio il Team di Mira contro il Team di Ash e nelle fasi finali Kali nonostante le raccomandazioni decide di utilizzare Ash e Dokkaebi sue compagni di squadra come bait e per fare l'ultima kill spara anche un colpo che ferisce Ash all'orecchio. Una volta negli spogliatoi tra le due nasce un vero e proprio scontro con Ash che tira un cazzottone a Kali e i presenti che si schierano da un lato e dall'altro chi per dividere chi per attaccare. Ecco che quindi alle spalle di Harry inizia a succedere qualcosa Ash e Kali iniziano a prendere le misure l'una verso l'altra senza dire nulla al nuovo Six. In questo momento vengono introdotti i fumetti sì i fumetti di Rainbow. Nel primo ambientato prima del torneo ci viene mostrata Kali che durante un allenamento con i membri di Nighthaven Wamai e Isearuni coinvolge anche Fuse. Gli mostra una tecnologia di Nighthaven e gli propone addirittura di entrare nel gruppo di mercenari. Mentre nel secondo fumetto viene introdotto Flores. Si tratta di un ladro esperto e perfetto per le infiltrazioni. Reclutato direttamente da Ash con lo scopo di andare a spiare Kali. Flores infatti si unisce durante la prima season dell'anno 6 con Operation Crimson Ice. Siamo quindi nel 2021 e dopo Flores nell'anno 6 di Rainbow Six arrivano altri tre operatori. In North Star a giugno 2021 Thunderbird viene reclutata direttamente da Nomad e testata da Nook all'interno del fumetto. Ancora una volta c'è un certo focus una certa attenzione sui rapporti interpersonali degli operatori. In Operation Crystal Guard quindi la terza dell'anno 6 viene introdotta Osa sia nel trailer che nei fumetti ci viene mostrata la direttrice del reparto di ricerca e sviluppo di Nighthaven chiamato QCR Quantum Concept e Robotics migliore amica di Kali tra l'altro. Nell'animazione vediamo anche l'interno dei laboratori Nighthaven in cui ci sono anche IQ e Smoke intenti a testare dei gadget e affascinati da tutta quella tecnologia. Quindi Osa è l'unica operatrice di Nighthaven introdotta durante l'anno 6 perché poi l'anno si conclude con l'introduzione di Torna in Operation High Caliber che ci viene mostrata nuovamente in Grecia pronta per affrontare il nuovo torneo dei campioni. A fine anno c'è comunque un certo focus sulle 4 new entry del Team Rainbow infatti vengono condivise da Ubisoft delle interviste o più interrogatori fatte da Zero a questi 4 operatori. Con Flores ad esempio c'è una conversazione abbastanza chill in cui Zero gli rivela di conoscere la missione e i piani affidati da Ash ovvero spiare Nighthaven e anzi gli chiede di riportare tutto ciò che scopre. Stessa conversazione tranquilla anche con Thunderbird che Zero trova all'interno dell'hangar del Team Rainbow alle prese con un elicottero e vuole soltanto assicurarsi che si stia trovando bene con i nuovi compagni. La situazione cambia nettamente quando Zero invece scopre Osa all'esterno del reparto di ricerca e sviluppo di mira durante la notte come se stesse scappando dal laboratorio e a quel punto inizia ad accusarla di essere una cattiva bugiarda ma quando prova a parlare di Kali Osa minaccia di colpirlo e quindi la conversazione si interrompe bruscamente ed è invece con Thorn che Zero si apre di più perché quella conversazione avviene già durante il torneo dei campioni durante un match in cui lo scontro tra Ela e Zofia due sorelle si era fatto un po' troppo acceso quindi Zero è preoccupato che possa succedere qualcosa e qualcosa succede. Arriviamo quindi a Sorelle d'Army il corto più bello fino ad oggi guardatelo se non l'avete mai visto. si tratta del terzo torneo dei campioni e la finale tra il team di Caveira e quello di Kali il focus però è sullo scontro tra Ela e Zofia sorelle molto legate almeno fino alla morte del padre Jan Bosak che era un ex comandante delle forze speciali polacche il rapporto invece è molto inclinato ormai e alla fine della sfida all'esterno dello stadio Ela addirittura decide di lasciare il team Rainbow e di unirsi a Nighthaven in macchina ci viene mostrata tra l'altro di fianco a Smoke e per la prima volta vediamo la faccia sfregiata di questo operatore a inizio 2022 però abbiamo avuto anche un secondo corto in CGI perché durante il reveal di quello che sarebbe stato il programma dell'anno si parla anche di un restyling di tutta la trama di Rainbow Six e ci viene mostrato Harry alle prese con la sua lavagna da qui infatti parte la ristrutturazione dell'arco narrativo di Siege insieme a Dela e Smoke altri operatori hanno lasciato ufficialmente Rainbow per Nighthaven e si tratta di Finca IQ e Pulse per ciascuno di loro ci sono anche delle motivazioni ed è stata una delle analisi più approfondite che io abbia mai fatto su questo canale perché sono andato a vedere tutte le note singolarmente a leggere qualsiasi cosa Harry avesse scritto su quella lavagna ciò per dire rivedete l'analisi perché è ancora attualissima ma vi porto comunque i due punti principali Harry dice di aver previsto questa situazione e nella lavagna si legge addirittura di Valkyrie impegnata a raccogliere informazioni all'interno dei laboratori Nighthaven inoltre gli operatori restanti del team vengono divisi in quattro squadre con quattro capitani Termite Ibana Doc e Caveira arriviamo quindi a un punto cruciale della trama con Operation Demon Veil e l'introduzione di Azami succede un casino sia nel trailer che nel fumetto si parla dell'omicidio di Mr. Yahata un potente uomo giapponese per cui Azami era guardia del corpo e soprattutto nutriva grande affetto nell'attentato Azami riesce comunque ad eliminare quasi tutti gli assalitori e recupera il proiettile che colpisce e uccide Yahata fa irruzione a casa di Ibana sua amica dai tempi della polizia e le chiede di aiutarla nelle indagini perché sul bossolo del proiettile c'è il logo QCR ovvero Quantum Concept and Robotics il reparto di ricerca e sviluppo proprio di Nighthaven i mandanti potrebbero essere loro Ibana quindi richiede l'aiuto di Jackal e Thatcher che riescono ad individuare un assalitore sopravvissuto e gli fanno confessare anche di essere stato pagato per l'omicidio ma di non avere altre informazioni se non di attendere in quel punto preciso dove la squadra la mini squadra di Rainbow l'ha beccato un istante dopo un elicottero li raggiunge e una torretta con una persona non riconoscibile crivella di colpi malvimenti e prova ad eliminare anche i membri del team Rainbow senza riuscirci tutti i sospetti a quel punto ricadono su Nighthaven ricordate i quattro team con i quattro capitani della lavagna di Harry benissimo nella seconda stagione viene introdotto il primo team Wolfgard Il capitano è Doc e si tratta di una squadra dedita a salvataggi e operazioni umanitarie a cui si unisce anche Sans il nuovo operatore Wolfgard ci viene mostrata durante un'operazione di salvataggio di un architetto ottenuto in ostaggio e nel fumetto scopriamo che questo architetto ha creato parte dei laboratori Nighthaven e che il team Rainbow vuole farsi aiutare proprio per l'infiltrazione il team di Caveira specializzato in queste operazioni invece è impegnato in Sud America ha un operatore della squadra e in viaggio verso Singapore proprio per occuparsene i laboratori di Nighthaven infatti hanno sede lì a Singapore Sans lo accompagna proprio per scortare l'architetto appena salvato che ha possibilità di accesso all'interno della struttura almeno loro così credono i due operatori comunque riescono ad infiltrarsi travestiti da sicurezza di Nighthaven non senza qualche difficoltà dopo aver incontrato anche Ace e Pulse e Sans torna indietro portando con sé l'architetto soltanto a quel punto l'operatore rimasto ai laboratori si toglie l'armatura e si scopre essere Nook Arriviamo quindi ad Operation Brutal Swarm e all'introduzione di Grimm che avviene esattamente in quel momento nel momento dell'infiltrazione considerate che in quella season ci sarebbe dovuta essere la nuova mappa Nighthaven che però poi è stata rinviata alla season successiva ciò avrebbe dato un attimo più di contesto a ciò che accade nella storia Grimm ci viene mostrato all'interno dei laboratori intento a fermare questa intrusioni di Nook prova a darle proprio la caccia sfruttando il suo gadget ma lei riesce a scappare dopo un'esplosione con una penna USB su cui ha scaricato i dati delle spedizioni di Nighthaven e fugge su una barca insieme a Zero commette però un errore grave perché per rallentare Grimm lo ferisce con il suo coltello lasciandolo lì ed è da lì che partono proprio le indagini di Grimm tramite una singola immagine delle telecamere dopo aver interrogato gli ex del team Rainbow capiscono si tratti di Nook e per rispondere all'attacco Grimm viene incaricato di scoprire di più sull'identità di quest'operatrice che ci ha sempre tenuto a tenerla nascosta probabilmente perché legata alla famiglia reale danese Grimm comunque riesce a risalire addirittura alla vera identità di Nook e una volta raggiunta a casa sua la minaccia di rivelare non solo la sua identità ma anche quella della sua famiglia qualora Rainbow avesse deciso di invischiarsi nuovamente con le operazioni di Nighthaven praticamente Cali ci teneva a spaventare un po' il team Rainbow ma vi ho parlato della squadra di Caveira impegnata in Sud America ecco che ci vengono presentati nella quarta season in Operation Solar Ride i Ghost Ice il team capitanato dall'operatrice brasiliana intento in quel momento a riclutare Solis di cui Caveira non è troppo convinta nelle prime simulazioni col team infatti questa nuova operatrice fa un sacco di errori però Zero insiste affinché le venga data un'altra possibilità e a un certo punto parte un allarme rosso che rimanda questo team a Londra nel quartier generale di ricerca e sviluppo Sunset ad oggi non abbiamo informazioni su questa specifica operazione non so se tornerà mai all'interno della trama di Rainbow però mettiamola lì dopo un primo errore Solis riesce a salvare la vita a Caveira che quindi la mette ufficialmente all'interno di Ghost Ice e anzi le chiede addirittura di decriptare la penna USB con i dati rubati da Nook nei laboratori Nighthaven possiamo dire con assoluta certezza che Solis ci sia riuscita perché all'interno dell'animazione vediamo effettivamente Caveira e Solis impegnate a tendere un agguato durante una spedizione a Kali sembra quasi arrestino Kali a quel punto però Kali specifica di non essere stata lei la mandante dell'omicidio di Misteria Hata e che Nighthaven non sia responsabile di quanto accaduto ma Caveira sembra già saperlo e anzi rimanda le prossime operazioni al team Red Hammer qui però succede una cosa particolare dopo averci mostrato i singoli team in singole stagioni con lo specifico operatore stavolta no cambiano le cose in una sola stagione ci vengono mostrati due team prima però Viper Strike quello comandato da Ibana Si tratta di un team specializzato nelle operazioni che richiedono estrema precisione e rapidità di questo team fa parte anche Brava la nuova operatrice dell'anno 8 di Rainbow Six e tra l'altro nonostante non sia ancora stato pubblicato il fumetto dedicato a quest'operatrice ci è già stato mostrato il cartoon che però parla di eventi successivi a quello che sto raccontando ora quindi farò un video dopo il rilascio della season e soprattutto del fumetto in cui parliamo di quell'animazione lì e del fumetto stesso una settimana dopo il reveal di Viper Strike ci viene mostrato Red Hammer il team capitanato invece da Termite in questo caso però non ci viene mostrato un nuovo operatore ci viene raccontato soltanto il team come quello che si occupa delle irruzioni tutto in previsione di quello che poi sarebbe stato mostrato al Six Invitational 2023 con questo corto in CGI del 2023 che io ho visto direttamente lì al Six Invitational che mi ha strappato pure la lacrimuccia e che è stato seguito dall'orchestra fenomenale di Rainbow Six abbiamo visto la morte di Harry ci viene introdotta una nuova figura Deimos che seduto alla scrivania proprio a casa di Harry lo minaccia e gli mostra i suoi operatori teoricamente caduti in una trappola e soprattutto vittime di un'esplosione attualmente non sappiamo molto di Deimos ma sappiamo che è stato lui a rubare le armi di Night Even e che Night Even sembrerebbe quindi non colpevole ma più una sorta di capro espiatorio sappiamo anche che Deimos è stato parte del team Rainbow e che accusa Harry di aver reso il team molto debole rispetto ai suoi tempi a fine cinematica comunque lo uccide sparandogli al cuore io ho fatto delle teorie su Deimos se le ho motivate tutte quante all'interno del corto in CGI a ogni modo penso possa trattarsi o di una figura totalmente nuova a quella che è la trama di Rainbow Six Siege o addirittura di qualche vecchia conoscenza ad esempio un vecchio Six quindi un vecchio capo del team Rainbow qualche vecchio operatore e perché no magari qualche personaggio di qualche altra saga per il resto abbiamo già visto Sam Fisher non mi sorprenderebbe se prendessero Coldy Walker da Ghost Recon spero tantissimo che tutta questa panoramica che tutte queste informazioni siano state chiare che vi siano piaciute e vi inviterei ancora una volta se siete arrivati fin qui di passare anche dalla descrizione di lasciare un follow sui canali della Rainbow Six da com e magari anche sui miei canali personali mi trovate come il solito mute ovunque vi ringrazio per la visione e ovviamente in questa playlist all'interno cioè dove sta sto video ci saranno tanti altri video legati alla trama di Rainbow Six e i primi saranno dedicati sicuramente a Brava ci vediamo alla prossima